Siamo qui con Saimir e la loro squadra di hip hop, noi siamo Niju, è un'associazione onlus che si preoccupa di tutti i bambini, specialmente i più disagiati. In questo caso parliamo dei bambini filippini. Saimir e Addi sono andati questa estate, anno agosto, una ventina di giorni, sono andati nelle Filippine da padre Joseph a Manila. Tanti l'avranno conosciuto di voi padre Joseph perché è stato qui alla chiesa di San Francesco e parroco di Russito e hanno riscontrato una realtà terribile. Molti bambini orfani, malati, disagiati, famiglie terribilmente povere. Loro non si sono dati per persi, hanno continuato a ballare là, hanno portato gioia. I bambini hanno imparato a ballare, le suore hanno imparato a ballare, hanno ballato là e abbiamo detto, ma Saimir organizziamoci anche una bella tournée nelle Filippine. Ma intanto padre Joseph dice, abbiamo tanti bambini orfani, come possiamo fare? Un centinaio possiamo dare una casa, un'accoglienza, una scuola, un rifugio, un posto dove stare. Abbiamo trovato il posto, padre Joseph ha trovato il posto e abbiamo pensato con Saimir di aiutarlo. Quindi Saimir e Adi hanno ballato nelle Filippine e balleranno qui per noi, ma soprattutto per loro, per quei bambini. Passiamo. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.